Secondo e quarto di finale, categorie sordienti delle vedove, Kuhlman, D'Ambrosio, Pollini, Gilardi, Guaviglia, Dallavecchie, Ferrarese. Cristian delle vedove del 48R in testa al gruppo seguito dall'atleta svizzero. Max Kuhlman è ancora after school D'Ambrosio e ancora svizzero con Nathan Pollini. Le prime quattro posizioni a seguire, Olgiate, Comasco, Garlate, Verona e Paterboss. Ma seguiamo il gruppo in testa, le prime quattro posizioni in baglia.